fai camera che si inceppa oh cazzo no non so se starà su però proviamo condizione ce n'è cazzo per star su questo ragazzi allora come sale hai visto ecco là c'è un po di corrente che tira un po di corrente che tira qualcosa per l'evento no allora primo volo di egidio forchini in pendio del super pilota egidio forchini aspetta facciamo uno zoom sull'aereo intero paura sul volto di egidio se trovi l'aventata forte che te lo butta su tu dagli un po di chiara perché se ne non andare di là gira subito che se vai di là non lo so subito allora che dici sono emozionato sto già pensando a rientro scarica le batterie poi ne riparliamo tolti i flap adesso guarda che figo in un passaggio basso adesso possibilmente senza colpirmi anche qui prendo un po di corso si vedrà che hai aperto i flap e dopo caso mai si riesce ad atterrare con l'aereo integro proviamo anche questo un po di corrente e dopo caso mai si riesce ad atterrare con l'aereo integro proviamo anche questo che si riesce ad atterrare con l'aereo per amare quindi nostra lavare la non 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 ma E' un po' giallo. Ho capito, hai fatto, volevi fare un rovescio tu, uscire in rovescio dall'impasto. Spagnolo, esiste là. 30 euro spesi. Hai fatto bene a provarlo prima. Rotto, sbagliato. Sì, ero convinto che fosse girato di là, invece no, era girato di qua. Eh vabbè, pazienza. Lo giustiamo? Maggio, la prima cagata che ti vedo fare è grossa. Eh vabbè. Mi fanno tutti, eh. Orco, cane, strappato via. Faresti un mito se lo ripari qua, eh. No, vai. Ho portato anche la baionetta probabilmente. Poi è già finita, dobbiamo riprendere. Noi sì, è già finito oggi. Questo è tutto a posto, niente rotto. No, tutto a posto. Io ho rotto un po' di foglio. No, no. Dice, vedi. Ho romato, eh. Non so come tu non hai da gare i modelli, vai. Un quarto alle sette. un po' giusto un piccolo volo in caso ci fessi fida ragazzi un po' giusto un po' giusto un po' giusto Leb CS원이 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.